In collaborazione con Glamvision e Ottima Trento. Nonostante le condizioni meteorologiche incerte, migliaia di escursionisti sono saliti in montagna per il primo fine settimana estivo, numerosi però gli interventi del soccorso alpino. Rifugio telegrafo, abbiamo soccorso una ragazza accolta da malore e raccolto rifiuti abbandonati. Quando salite in rifugio ricordatevi che dietro alle piccole cose c'è molto di più. Promesse, ritardi e confusione. Cinque anni dopo cosa resta del sogno olimpico sull'altopiano di Pinè? Frustazione, preoccupazione e confusione totale. All'India la Val di Non lancia il Predaia Esplora, la mappa interattiva per scoprire le bellezze del territorio. L'altra montagna, in Sicilia aridità d'allerta rossa anticipatrice della desertificazione. Il gestore del rifugio Citelli su Letna. Dipendiamo dall'autobotte, quest'anno arrivata anche d'inverno. Ottima Trento, del 1997. Consulenza, ricerca e formazione. Il nostro impegno, la tua crescita costante. Ottimatrento.it Grazie. Sì, grazie.